I contagi dovuti al Covid-19 a Chieti in altri comuni della provincia sono aumentati, ma non bisogna creare allarmismi tra la popolazione. Lo ha detto il sindaco Diego Ferrara, parlando dei dati diffusi dal direttore generale della ASL Lanciano Vasto Chieti Tomaschel, che ha chiesto al prefetto Armando Forgione di convocare il tavolo Salus et Spes per condividere la preoccupazione con i rappresentanti dei comuni più colpiti e valutare possibili misure anti-coronavirus da adottare. Che ci sia un incremento dei contagi è inequivocabile e oggettivo. Nell'ultima settimana nella città proprio di Chieti, nel territorio cittadino, si sono avuti 742 casi, riportando l'indice di prevalenza a 1.400 su 100.000 abitanti, quindi sicuramente un dato oggettivo. Ma quello che voglio sottolineare è che il 90% di questi casi sono trascorsi, diciamo così, clinicamente come banali influenze. Su 6.742 casi nella provincia di Chieti, ben 6.640 sono stati con degenza domiciliare e 84 in ospedale. Quindi non esiste una pressione ospedaliera e i ricoverati non arrivano in sala di rianimazione, ma rimangono nei reparti di degenza medica o di malattie infettive. Quindi d'accordo sul fatto che sono aumentati i contagi molto probabilmente, in rapporto anche alle festività pasquali e alle possibilità di stare insieme tante persone e familiari. Queste riunioni, questi tavoli che si sono succeduti dall'inizio della pandemia, sono stati utilissimi per rendere sempre più forte la sinergia istituzionale. Però non lanciamo inappropriatamente, preventivamente, dei segnali di eccessivo allarme, perché reputo che possano essere anch'essi pericolosi in questo particolare momento di grave situazione economica e anche e soprattutto psicologica della società civile.